Una zona non ancora esplorata, nel recinto dei poveri e dei ricchi. Combattere l'ignoranza del sangue e del sonno, mangiare solamente ciò che basta. È necessario per me che io me ne vada, quale fuoco cova nel mio grosso corpo, Antigone era albina con gli occhi rossi. Sono attirato da questo elemento magnetico. Comincio anche a comunicare con i morti. So lavare la mia camicia, ma non so stirarla. Sono più largo che alto, ma non ho padroni. Sto leggendo Grazie e Nebbia di W.H. Auden. Ripeto il titolo in inglese come una formula magica. Thank you, Fogg. Thank you, Fogg. Thank you, Fogg. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie.